L'osservatorio civico turistico Aretuseo lancia una petizione sul sito change.org diretta al sindaco di Siracusa, al presidente del consiglio comunale, agli assessori di competenza, al consiglio comunale, alla circoscrizione di Ortigia, alla soprintendenza ai beni culturali e ambientali per demolire la copertura del parcheggio Talete, secondo l'osservatorio un vero e proprio Ecomostro, al fine di restituire un lungomare attrezzato alla zona di Levante dell'isola di Ortigia, patrimonio UNESCO. In discussione l'intervento di restyling del costo di circa 600.000 euro sul parcheggio Talete, un intervento che prevede sostanzialmente di rifare il pavimento e la pitturazione interna quando, con una somma molto vicina, secondo l'osservatorio civico Aretuseo si potrebbe demolire l'orrida e inutile copertura da capannone industriale e creare un posteggio aperto. Aria verde e di svago con ampio lungomare attrezzato, come ampiamente dimostrato dal progetto di Massima, ideato e messo a disposizione gratuitamente dall'osservatorio e i tecnici impegnati nella realizzazione. Un restyling dell'ecomostro assolutamente inutile e da evitare, tuona l'osservatorio, a maggior ragione tenendo presente i guai strutturali e di limite delle norme che affliggono tale opera rendendo necessaria continua manutenzione e dunque altra spesa. Per queste ragioni e non solo procediamo alla raccolta delle adesioni al fine di stimolare e supportare ulteriormente l'amministrazione e con il preciso obiettivo di demolire l'orrenda copertura del Talete, cancellando definitivamente una delle pagine più indecenti della storia della nostra città.